Lo so, lo so cosa stai per dire. Che amare fa schifo, che quando ami ti fregano, lo so. Veramente io volevo solo dirti che dovremmo spedirli i lettini. Però l'hai pensato. E hai ragione. È vero. Insomma, a volte se ami puoi essere fregato. Però io preferisco amare e rischiare. E per cosa? Per farsi del male? No, per vedere cosa puoi essere. Caral, capire quanto puoi essere felice. Farah se n'è andata, Giovanna se n'è andata. Perché dovrei essere felice? Perché hai dimostrato di essere un bravo papà. E essere diverso da tuo padre. Grazie. Ciao.